Da quando è iniziata la pandemia da coronavirus, insieme a guanti e mascherine, il gel igienizzante è diventato uno dei prodotti più ricercati. Per questo motivo, negli ultimi mesi, i controlli della Guardia di Finanza continuano incessanti per controllare e contrastare possibili speculazioni o insidie derivanti dalla commercializzazione di tali prodotti, e troppo spesso abbiamo assistito a sequestri di materiale venduto senza che rispettasse le norme. È successo di nuovo, questa volta a mettere in commercio gel disinfettante privo delle informazioni minime previste dal codice di consumo, era un supermercato di Partinico in provincia di Palermo, dove le fiamme gialle hanno sequestrato 124 flaconi di prodotto igienizzante rinvenuti sugli espositori destinati alla vendita, seppur non a norma. I successivi approfondimenti sulle giacenze di magazzino hanno permesso di individuare ulteriori flaconi della stessa specie, stoccati e pronti per essere immessi in commercio. Il titolare del supermercato, un 44enne, è stato segnalato alla Camera di Commercio per la fattispecie prevista dal codice di consumo, punita con la sanzione amministrativa che può arrivare fino a 25.823 euro.